Oggi andiamo a preparare insieme i biscotti ai fighi, questa ricetta l'ho presa dal canale di Marta, le ricette di Mami, ho portato solo qualche piccola modifica nel composto che andrà dentro i biscotti, anziché lo zucchero semolato normale ho messo quello di canna, poi tutto il resto è uguale. Allora abbiamo bisogno di 200 g di farina, 50 g di zucchero, 50 g di burro freddo, un uovo più un pizzico di sale, abbiamo bisogno anche di 50 g di fecola di patate, 20 g di farina di mandorle, un cucchiaino di lievito per dolci che ho messo qui dentro e la scorza di un limone. Invece per il ripieno abbiamo bisogno di 330 g di fighi, di fighi sbucciati, buccia di limone, 20 g di farina di mandorle e 50 g di zucchero di canna. Iniziamo a fare la folla, quindi quelli li mettiamo lì da parte, iniziamo a mettere l'uovo col pizzico del sale, lo zucchero, la buccia del limone e iniziamo a sbattere il tutto. Adesso le farine setacciate. E aggiungiamo il latte. Aggiungiamo la farina di mandorle, o se già ce l'avete, in alternativa potete usare delle mandorle irritate finalmente. Passiamo le mani. E quando avete questa consistenza sbriciolosa, andate ad aggiungere a tocchetti il burro freddo. impastate fino ad ottenere un panetto. Non lavorate troppo la frolla perché più si lavora e meno sarà ottima la frolla. Formiamo un panetto e copriamo con pellicole. Mettiamo almeno un'oretta, 40 minuti, un'oretta massimo in frigorifero. E poi ci occupiamo del ripieno. Morbidissima. I fichi li tagliamo a pezzettini piccolissimi, ci mettiamo dentro lo zucchero e la buccia del limone. Li portiamo sul fuoco e dopo circa 10-15 minuti andiamo ad aggiungere anche la farina di mandorle. Dobbiamo creare tipo una marmellatina di fichi. Aggiungiamo quindi lo zucchero e il limone. la buccia. Mescoliamo bene 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 e facciamo riposare per due minuti. lasciamo cucinare per 15 minuti. Ecco qua, dopo 15 minuti ho spento il fuoco e vado a mettere la farina di mandorle. Una bella mescolata e vado a mettere in una ciotolina a lasciarla a freddare per bene. così. E questo sarà il nostro ripieno dei nostri biscotti. Che figli! Ah che gliela squallida! Che figli! Ok basta. Ai ai. Adesso vado a stendere la sfoglia in farina un pochino il tavolo e vado a creare un rettangolo. Dopodiché lo divido in due, metto la marmellata di fichi che abbiamo fatto, arrotolo e vado a mettere in congelatore per almeno 20-30 minuti. E dopo tagliamo a pezzetti. questo è lo spessore che deve avere, un millimetro. Adesso vado a mettere, vado prima a tagliare e poi vado a mettere qui al centro la marmellata. Eccola qui. Così. ok. Eccola. Diciamo. Eccola. Ok. Eccola. Ok. 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 Eccola. Eh. Grazie a tutti. 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 Ecco qui i biscotti, c'è un profumo veramente fantastico. Vado a mettere un po' di zucchero a velo sopra, giusto un pochino. Ed eccoli qui.